Oggi è il 15 di aprile 2009, siamo alla Betone, guardate l'innevamento del Zeno, è l'unico impianto che ancora è in funzione, si vede uno schiliffe, forse non si vede, comunque vi posso garantire che esiste e che è in funzione e l'ovovia, la famosa ovovia nuova che porta su, è l'unica zona dove ancora si sta sciando per quanto l'innevamento secondo me permetterà lo sci anche per altre 3-4 settimane, ecco qua la cima, abbiamo su un cima il Montegomito, spostandoci qua si intravede la pista della riva che parte dal rifugio della Selletta dove c'è il ristorante etc., lo si vede in cima e in alto, ancora spostandosi leggermente si intravede dietro la punta di quei due abiti la pista della Selletta, che anch'essa parte dal rifugio della Selletta, però fa ben altra strada e è decisamente molto più facile rispetto alla riva e rispetto all'Ezeno, dell'Ezeno una è rossa, le altre sono accettabili, in cima si vede la partenza dello schuzzi, di partenza della riva, è un bel saltino, diretto, una partenza molto veloce, in basso piano piano vi faccio vedere il parcheggio dell'ovovia, è ancora abbastanza piena di macchine, comunque questa cima appenninica in alto gira, gira, gira e va poi a congiungersi col Monte Cimone dove c'è l'osservatorio astronomico e meteorologico e è un punto di transito del viaggio aereo, della rotta aerea.